accostato e faremo appena appena un movimento indietro allunghi il disforzato del braccio il braccio per le punte lo teniamo e vi potete indicare che non bastano i troppi ma adesso devi vedere si fa fare piano piano facciamo un paio di botte noi dopodichè quando si estancano, perché è tutto molto sopra pesa vi faccio vedere come lui, che invece lui è incapazio si ma infatti la buttiamo così, certo non è la maschera che la voglio, ma quella di strutta questa è sua adesso ti do una mano a mettere la maschera, te la metto io qua con un indiretto della maschera, vado a tirare la maschera ok, adesso è corretto, mi sono però di basi, mi sono sicurato qua cari è corretto e riguarda qui abbiamo un po' più di spazio e qui abbiamo un po' più di spazio cazzo e qui abbiamo un po' più di spazio e qui abbiamo un po' più di spazio Ora, in una cosa del genere, abbiamo le protezioni per colpirci dovunque, per cui non farti problemi. Buono? Vento e assalto! Perchè hai colpito in me? Non lo scudo! Eh, non ti rupo mai, non mi fai male! Mi hai colpito prima tu! Guarda, cazzo, sto parlando! l'idea è quella, se lui accetta, se lui vuole fare il vichingo, lui, versetto, non ti ammorgo? Ci devo convincere adesso? Ma cosa? Per cui stai vivendo il suo wad. Non puoi satturare? Solidì la gamba, si poteva vanno ti... Allora, se non puoi satturare? Si poteva vanno tu... Dai! Pazio attivano di... – Dai! – Solidì la gamba, ci sollevano spunti. Allora... ... e dai colpi. E' l'oro E' l'oro E' l'oro forte che a vedere Tu ti piso e ti piso E' l'arte di forte Ufff Aia E' l'oro 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 ok 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 l'acqua l'acqua ok l'acqua 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 E' Gattaglio! Questo è quello che viene detto, Gallia Gesù, di cui ora, se c'è quelle norme, non lo so, facciamo vedere, lui anche è bravo, si è fatto male da poco contro quello lì che vi ha spiegato prima, altrimenti lui, beh altrimenti, è bravo comunque. Dove vado Yari? YARI! Ma scusa! Oh, ma Yari fa male!